Marino Zamboni è Presidente del Comitato Brenta Sicuro, voi ormai da anni vi state battendo per la sicurezza idraulica del nostro territorio. Per questo sabato avete organizzato un appuntamento che è intitolato Oro Blu e Rischio Idraulico. L'acqua Oro Blu e Rischio Idraulico. Cosa succederà sabato? Sabato sarà un bel confronto fra le persone del territorio. Partiamo dai sindaci, i consorti di bonifica, gli agricoltori e le persone esperte da questo punto di vista. In un confronto a 360 gradi con tutti i protagonisti del territorio ci affronteranno vari temi? Sì, decisamente noi vogliamo che si affronti il problema nel suo complesso. Certamente un punto importante riguarda l'idrovia sul quale noi ci stiamo battendo insieme a molti altri comitati, a Lega Ambiente in primo. Però c'è anche un problema che riguarda l'agricoltura, riguarda l'irrigazione, riguarda la resilienza, cioè l'adattamento nostro al cambiamento climatico che sta oggettivamente avvenendo. Per quanto riguarda l'idrovia Padova Venezia se ne parla da tanto tempo, ci sono state tante promesse. Adesso a che punto siamo? Cosa dice la politica? È importante fare presto? Decisamente il fattore tempo è fondamentale. Noi abbiamo incontrato pochi giorni fa l'assessore, il nuovo assessore all'ambiente, e ci ha confermato che nella scala priorità economico certamente l'idrovia è al primo posto. Stanno valutando con apposite commissioni se questa prima posizione riguarda anche la priorità di esecuzione. Di fatto tra pochi mesi avremo un progetto preliminare, a quel punto potremo chiedere i finanziamenti la Regione, lo Stato potrà chiedere i finanziamenti anche l'Europa per l'esecuzione. Restate ottimisti? Noi stiamo sul pezzo, non ci definiamo ottimisti, ma controlliamo la situazione come comitati, come raggruppamento di comitati. L'appuntamento di sabato dove e a che ora? Sabato ore 10 all'idrovora di Santa Margherita di Codivigo, nella sede del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.